Tradita dall'erbacce dell'orto che con amore curava quotidianamente, ecco quello che rimane dell'erba tagliata che Giannina Romanato, una pensionata di 61 anni, ieri stava cercando di gettare nella canaletta, approfittando del cancelletto della sua casa che si affaccia proprio sullo scolo. Siamo in via Gorizia a Maserà, Giannina accidentamente scivola e cade nella canaletta, non riesce a chiedere aiuto perché l'acqua è troppo alta. Un vicino di casa che gentilmente ci fa entrare per farci riprendere proprio quell'angolo della canaletta che avrebbe trascinato via il corpo di Giannina, ci racconta che fino a qualche giorno fa l'acqua non era così alta. Giannina lascia tre figli che ieri sera si sono chiusi nel dolore per questa morte inspiegabile. Nella loro abitazione, insieme al marito, lo storico barbiere della Paltana, la sua attività si trova in via decorati al valore civile. Una tragica morte che lascia tutti senza parole, anche i vicini che la conoscevano bene. Il corpo di Giannina, con ancora i guanti addosso e gli stivali da giardino, è stato trovato soltanto alcune ore dopo e molto più in là, all'altezza di via Roma, dove è stato notato da un passante. Come se inspiegabilmente una forte corrente lo avesse trascinato via. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Albignasego. Sarà ora l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria a confermare l'ipotesi della caduta accidentale oppure a rivelare che a far cadere Giannina sia stato un malore.